Ah, ci sta aiutando lui però, dai. Cioè, ci sta aiutando, si starà anche difendendo da quelli che gli sparano. Ah, vabbè, per lui non so. Questa parte di strisciamento. Non sono con lui, scusa. Cioè, io ho capito che fossero con lui, che era la colpa sua che erano usciti questi mostri in giro per il mondo. Era lui che li faceva uscire, no? Che ci sta a litigare. Sì, ma lui litigherà un po' con tutti, dai, era incarcerato qui. Loro sono stronzi e vogliono uscire a fare il bordello, ma escono perché lui mangia i regni. Lì è presente. Dietro. Sono sempre in due questi, eh. Non hai questa lame, dai, andiamo lì lontano. Questa funziona sempre, sta mossa. Eh, sì, è forte, le lame. Ma tu. Hai visto dove la metta? Mi è baggata nel culo, la sono presa, la lama. Oh, due coltellate. Che si raga la pizza, mi è venuta subito. Due coltellate rapide. Ma andiamo alla lancia. Quindi la vita. Quindi adesso ci abbiamo lascia, che vuol dire lanciola. Cioè, la lancia e la lascia. Ma è arrivato un'ora, quando non ti serve più. Ma magari la combo con. Comunque molto spesso, io distruggendo la roba negli angoli, ho trovato dei sentieri dietro. Sì. Sì, ti mani dei robbi, non sto. Oh, guarda, sei brillante. Io distrago Garm. Tu congela le sue catene con lascia, così non scappa. E legalo a qualcosa. No. Troppo pericoloso. È un bel piano. Muoviamoci. Aspetta! Oh, è diventato un lupacchiotto, ma no, no, no. Quindi congela la catena. E dove va la catena, buona? Questa no. Lui intanto lo distrae. Ma qual è che fa questa? L2 R1 per pensionare la stamento della catena. La catena è prima che Garm possa fuggire. Ah, qua. Ah, ok, era una cosa da fare, mica avevo capito un cazzo. Ebbè, è incazzato, mi è servito un cazzo. Che bel senso, sono incazzato me. Uuuuh. Ebbè, adesso abbiamo perso Traus. Eccolo qua. Allora, come un piano, il Dereus. Per poco la trasformazione, Modino ti ha insegnato a controllarla? No. Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. D'ora in poi si fa a modo mio. Signor, sì. Ma poteva starci un passaggio, effettivamente ce n'è rombo, eh, vabbè, ma comunque un po' di rottura di coglioni, eh. Dopo un'ora. Ma guarda che c'è. La presa regionale per arrivare. Ah, questa si può usare la lancia, dai. La presa regionale di Trenitalia per arrivare. Flash. Bella comunque come meccanica la lancia. Sì, ne aggiungo un'altra diversa. Via, 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 fa splodano così, falli splodere tu quel primo. Così, ne mancano per me. Quello caricato mi sembrava feo. Adesso non ci sono più nemici, ovviamente. È forte quello caricato. Chi è che non si fida ora? Scusa, ho esagerato. È solo che il Savo avrebbe funzionato. Pazienza. C'è una furia. Troveremo un modo. Trenzire. Ha fatto un salto enorme, gratis, e poi ha dato un colpo così soft. Credo che dobbiamo raggiungere quella spagione. Per distruggere solo quella roba lì. Facciamo dire, vabbè, vada a fare in giro. Ancora dobbiamo usare sta furia. Hai visto? Non poi ci riusciremo a pensare. La soluzione non è sempre ovvia. Beh, questa è ovvia, dai, abbiamo fatto pure prima. Deve vedere quanto gli fa? Ah, gli fa abbastanza. Ma che va, dire, esistiva, rosa. Vagli la scuola di Pegasus. Mi faccio un perte. Però qui la reddiva, anche se non la colpisci con le frecce. Non l'ho colpita con la freccia. Prima la colpita. Ah, però è tipo... Adesso nell'uno non ce la fai a batterle con l'ina. Beh, dipende da che difficoltà metti in tale. Sì, anche quello. Di cazzo di occhi resistono a due lanciate. E' morto. Vabbè, forte, dai, così. Sono morto, sono morto, non uscire. Non prenderne più di vita. Immagino voglia dire che ce l'hai già. No, ce l'hai un po'. Vabbè, ma tanto lasciarla qui non sa fa cazzo. Eh, la bella. Devi ritornare per fare le secondate. Eh, vabbè, ok, però... Cioè, a questo punto andiamo. Poi quando torniamo ne prendiamo altre. Ma le camere quelle segrete... Intanto si mette sempre qui dove devo premere tondo per salire. Cioè. Le camere quelle lì... Da usare il picchetto le hai aperte già alcune con le Valkyrie. Ma... Non ci sono, però, ci sono. Ci sono così le lapide del Berserk. Secondo me quelle non ci sono. Oh, ok. Cioè, oddio, le lapide ci dovrebbero essere un parere. Non ucciderlo, però, comincia a producendo un altro naso laterale. Questa. Dice, gli fa solo che bene, gli entra più aria. Garma. Eh, la affrontiamo, allora. Ah, questa è la bifurale, se è quella. Anche questi forse li puoi parare. Eh, uno di quei combattimenti con i Mosse 9, no? Perché capiscono sempre a me? Comunque, quattro, ti dico, ho fatto così. Anche in modalità... Parati. Difficile. Eh, comunque i combattimenti non te li fa fare del tutto se muori. Cioè, io tipo contro... A parte le Valkyrie, che li devi fare tutti in una volta, Gli altri, anche se sono lunghi, Li ricominci tipo da metà vita, non lo so, quel che è. Metà vita del boss. Per esempio, io con un boss adesso... Mi ricordo che fosse di preciso. Che aveva veramente tanta vita. Sono morto una volta. Merda. Le spade rivelatrici. Eh, che ci faccio? Menalo, menalo, menalo. Ah, no, sai cosa dovevi fare? Ghiacciarla. Eh, mo l'ha detto... L'ha detto Taurus. Eh, ci ho pensato dopo anch'io. Occhio per quello era rosso. Perché adesso attacco le... Le botte. Via. La catena congelala. No, ha sbagliato. Ma com'è? Se la devo caricare forse... Non lo so. Forse non l'hai preso. Devi prendere il metallo. Tu hai preso in mezzo. Allora siamo un po' l'ascia se la vuoi. Così, se devo congelare sta cazzo di catena... Almeno ce l'ha portata. La catena. Vai, menalo, menalo. Ah, no, la catena forse la devi prendere. Ok. Ok, ma c'è la pera che la cazzo di via. Adesso la vuoi congelare. Adesso la vuoi congelare. Adesso la vuoi congelare. Adesso la vuoi congelare. Sì, vedi la prendi, la prendi, la prendi, la prendi, la... Stentone, devo sapere. No, va bene, devi capirle un po', però vabbè. Ma dove lascia la ramicina? La dietro di te, non so perché c'è da adesso così tanto. Ti potevi fare con la giulasse. No, non so. Ma la giulasse lo posso fare adesso. Cosa è sta roba? Questa non l'ha fatto prima. Oh, ti spari? Se mi spari? Parati. Parati. Ok. Vabbè, no, questa non è la parata buona. Vabbè, va bene lo stesso. Vabbè. La lascia. La lascia di dove è. Il naso, il naso, il naso. Il naso. Vabbè, la lascia anche questo, dai. Ho che sei allontanato, sta. Si lancia però lui. Guarda, non viene passato male, basta. Vediamo anche alle 3-3 come me, con la lascia come me. Beh, ci sta figo. Ma ha tolto tanto, non mi sembra. Come che ti abbia fatto pagare. Sì, va a cagare. Lì, congelala, congelala. La prendi, la prendi, la vai. Poi lo sprendi, la riprendi. Dai, ma cambiamo l'arma, dai. E' cambiare, ma usa la lancia allora. Ci mette un'ora ad arrivare da dietro di te. Lo so, lo so. Almeno uno. Niente. Ma forse uno l'ha preso, dai. Niente, fate nuovo l'unulato. Scaf. Che fa? E' pronto ad attaccare. Vabbè, ti spara i missili. Qua so, vabbè. Finito. No, non lo colpisce. Eh, me, nell'area hai fatto il mondo, te. Ah, devo capire con le cose lì, vabbè. No, te devi parare quando ti colpisce. Vabbè. Eh, via, via. Eh, vabbè. Mi fai prendere la vita lì, no? No. Dai. Eh, vabbè, o no, non ciò parati. Ma secondo me gli devo colpire le cose, le catene. No, lo devi colpire in faccia. Vabbè, adesso colpiamo in faccia. Niente, me l'ha schivata. Via, para. Bravissimo, mi aiuto in faccia. Vedi, non parte di me. Vabbè, mi ammè. Debbia curativa, cioè, anche. Questa cosa sia. Non lo vedo. Ho perso. Occhio. Bastardo. Detto io, via. Parati. Dai, che sei no. Meno capriole e più botte nella fa. C'è no, anzi, più di tirase. Niente. Non si incastra più la catena. Ho incastrato, è incastrato la catena. Niente. Ma io voglio menarlo ormai, è finito. Sì. Preso. Occhio, occhio, laser. Laser di ghiaccio. Parati. Nenumano. Per farlo. Via, alla terza si incastra. La terza si incastra, idiota. Vai. Perché sicuramente sarà da finire. E' finito. Io volevo ammazzarlo di pugno, no? Mentre si pattina qua quel cane, adesso. Si è incastrato la catena. Sola, meno male. Ah, quel cazzo che si è incastrato. Mondotosa, sto cedendo. Lo sta soffocando, vuole soffocare. Eh, stiamo... La colonna! Veloce! Ci penso io! Adesso sono Graus. Adesso ho quadrato, 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 quadrato. Beh, magari il prossimo God of War potrebbe essere anche da giocare in due, perché no? Non ucciderlo, eh. Non ucciderlo. Così, però, è un po' troppo calmo, dire. Non ucciderlo. Così, però, è un po' troppo calmo. Così, però, è un po' troppo calmo. Così, però, è un po' troppo calmo.